Buongiorno, benvenuti a questa domenica di 8 aprile. Vediamo cosa c'è scritto sui giornali oggi per la zuppa di porro domenicale. Allora, la questione fondamentale è sempre la politica. Parte un camion che ha fatto tre morti in un centro della Westfalia, Renania, in Germania, ma pare che, nonostante la modalità, diciamo, terroristica, sembra che sia stato un pazzo ad aver emulato il modo di fare dell'Isis. Ma il punto fondamentale resta sempre per l'Italia la politica. Ogni giorno c'è una piccola no, trick e track su quello che sta succedendo. Cosa è successo? Ieri vi abbiamo detto che Di Maio in un'intervista a Repubblica dice, rispetto al PD, dissotterriamo l'Asciad di guerra perché, a sua volta, Salvini aveva annunciato che sarebbe andato al Colle per il secondo giro di consultazione insieme a Berlusconi e a Lameloni. E questo non è accettabile per il Movimento 5 Stelle perché non è accettabile che il centrodestra sia unito per due motivi, perché non amano Berlusconi e questo oggi tutti retroscena dei loro militanti ce lo raccontano in maniera plastica, ma il secondo motivo è che se il centrodestra è unito col 37% è superiore in termini di voti e di dominus all'interno del governo al Movimento 5 Stelle che ha il 33%. Due motivi per i quali i 5 Stelle non vogliono dunque il centrodestra insieme a loro, oltre all'antipatia di Berlusconi. Salvini oggi che cosa dice? No a governo del centrodestra con il centrosinistra del PD. Questo oggi, dice Salvini, un messaggio alla vigilia di un accordo o di un incontro che ci sarà questa sera ad Arcore e dirà sostanzialmente a Berlusconi, ma l'ha già detto sui giornali, caro Berlusconi, con Renzi e con i suoi nessun accordo, semmai l'unico accordo di governo si può fare con il Movimento 5 Stelle, l'unico tentativo che Salvini concede. Finalmente oggi Alba Parietti ci ha detto che cosa ne pensa. Non perché io sia un snob, anzi tante volte l'ho invitato in trasmissione anch'io quando facevo virus, mi sembra che un paio di volte è successo anche durante Matrix, ma perché rido? Perché Alba Parietti dice io che sono stata trotschista dico Salvini è stato bravo. Quello che noi facciamo in questo paese è che nonostante le nostre idee siano molto caratterizzanti e non si abbia vergogna di raccontarle, Alba Parietti è stata una comunista, trotschista per tanti anni, Amendola è un comunista, trotschista anche lui forse non trotschista per molti anni, cosa succede? Quando qualcuno vince, gli uomini dello spettacolo che ci sono sempre dati da fare, alla fine però riconoscono, non solo gli uomini di spettacolo, riconoscono la forza del vincitore. Cioè il vincitore affascina, lo dico nel bene o nel male, ma è una costante non solo dell'Italia. Io preferisco quelli che amano il vincitore piuttosto che quelli che disprezzano il perdente che hanno appena appoggiato, cioè i loretiani, quelli alla piazzale Loreto, che fino a ieri erano lorenziani e oggi lo vorrebbero impiccare. Ecco, quelli mi fanno schifo. I leccapiedi fino a un certo punto. Però insomma è infondamentale quello che dice Alba Parietti, in meno, diciamo, cambio di umore è quello di Carlo Freccero, un altro intellettuale che fa il consigliere d'amministrazione della RAI, che ben conosco, che dice il Grillo non c'era alla grande manifestazione che ha fatto la Casaleggio Associati a Ivrea, una cosa che è una celebrazione del padre di Davide Casaleggio, Gianroberto, e dice Freccero che il vero dato è che non c'era Grillo, perché Grillo in realtà questo governo non lo vorrebbe fare, vuole ancora fare lotta più che governo nel Movimento 5 Stelle. È naturale, dunque, dice che non mi abbiano invitato anche a me, non sono così offeso perché quello che mancava era più grave di me. C'era il nostro amico Fusaro, lo ricordate, c'era Monio Vadia, un altro comunista cipriariano che è passato evidentemente alla... non vuol dire diventare nel Movimento 5 Stelle e partecipare ai loro convegni, manco per niente, c'era Mentana che non può essere considerato vicino, ma non è mai stato un politicamente, diciamo, orientato. Naturale l'alleanza, dice Freccero, tra Movimento 5 Stelle e la Lega. Ma sulla questione del convegno, oggi il del convegno di Ivrea, oggi soprattutto il giornale con Francesco Del Vigo, ha raccontato una vicenda scabrosa, che io trovo scandalosa. Sentitela bene, Giancarlo, Robert, Antonio, che vi siete guardati, e vi siete, Francoise, che vi siete collegati ora. La cosa scandalosa che è avvenuta è la seguente, c'è un giornalista della stampa che si chiama Jacopo Iacoboni. Io non sempre condivido quello che scrive, ma è un giornalista molto serio e che si è sempre occupato del Movimento 5 Stelle. Ciao Stefano. E che cosa ha fatto questo giornalista? Si è presentato al meeting dove c'erano centinaia di giornalisti e gli hanno detto che non poteva entrare, perché il suo credito non era stato fatto bene. Lui ha detto, scusami, riaccredito, chiamate la segreteria della stampa. Insomma, è un giornalista notissimo, ovviamente, visto i suoi percorsi del Movimento 5 Stelle. Altri giornalisti della stampa si sono accreditati all'ultimo momento, ma a lui non gli hanno permesso l'accredito. Non contento, lui ha preso un altro badge di un altro giornalista e ha provato a entrare e non l'hanno fatto entrare. Ma la sostanza, molto semplice, è che tutta questa cronaca la ritrovate sulle pagine della stampa e un fogliettone basso con un piccolo richiamino in prima pagina ha perfettamente ragione Francesco Del Vigo. Ma si può non far entrare a una manifestazione pubblica un giornalista perché è critico nei confronti del Movimento? E il mio amico Gianluigi Nuzzi, che è stato al giornale, conosce bene l'ostracismo nei confronti dei giornalisti che lavoravano per Berlusconi, lui che ha lavorato per Berlusconi, oggi il direttore editoriale della manifestazione di Casaleggio. Allora io chiedo al mio amico Gianluigi Nuzzi, che ha difeso l'organizzazione rispetto a Mentana, che invece diceva, ma ragazzi dovete farlo entrare, invece Nuzzi ha detto, beh ma se c'aveva il badge tarocco, qua i giornalisti sono come tutti gli altri, quei badge tarocco non vengono. Gianluigi, ma di che stiamo parlando? Lo stesso comunicato del Movimento 5 Stelle ha detto che quel giornalista non entrava per questioni personali e non professionali. Cioè, lui no. Allora, in un posto in cui un giornalista non entra in un meeting, perché un meeting pubblico, perché ha scritto male di quel movimento politico, va bene? Questa è una, non censura, è una delle poche censure che si devono denunciare. Per cui i giornalisti di merda, che fanno i loro convegni di merda, totalmente inutili, libertà della stampa, contro Berlusconi, contro Renzi, il conflitto di interessi, oggi tutti zitti, muti. Un giornalista che non entra nel meeting del più importante partito italiano è uno scandalo. Se l'avesse fatto Andreotti, se l'avesse fatto Craxi, se l'avesse fatto Renzi, se l'avesse fatto Berlusconi, oggi ci sarebbero i bavagli, i bavagli, no? Se non ora quanto, no? Come si chiamavano quelle minchiate che ha fatto Repubblica? Delle minchiate senza... Che male fa un giornalista che parla male di voi all'interno della Kermesse? Riparlerà male di voi? E chi se ne frega? Avete detto che siamo morti? Come dice Grillo, che ci ha regalato i soldi, detto che siamo morti, che ci vuole vomitare. Se siamo morti, che preoccupazione avete? Quattro politici da quattro soldi. Chi non fa entrare un giornalista perché ha paura in un meeting pubblico dimostra la sua incapacità di poter governare. Non il dissenso, ma un paese. Chiaro? Non perché i giornalisti siano sacri. I giornalisti possono essere presi a calci nel culo. Se uno fa una riunione segreta, non ha bisogno dei giornalisti. Non c'è un diritto di stare ai giornalisti là. Si possono fare riunioni a stanza di chiusura. Non ha nessuna retorica, perché i giornalisti sappiano tutti. Però c'è ragione, Roberta. Soltanto Scientologi si ragiona così, con i suoi amichetti che possono raccontare quello che sta avvenendo. E bene ha fatto Mentana a lamentarsi di questa cosa. Detto questo, chi se ne frega, se anche la stampa lo rubrica a pagina 10, finitevelo. I giornalisti invece sono quelli che si sono appassionati per il mitico riformismo di Lula, tant'è che quando lo condannano in carcere per corruzione a 12 anni, oggi mi ritrovo ancora il manifesto che ne titola Non si arresta un uomo come... Non si arresta il pensiero progressista. Cioè come se Lula non l'abbiano arrestato per il pensiero progressista, ma per i suoi 12 anni di galeria per corruzione. Dispotismo giudiziario. La sinistra sotto shock per l'arresto di Lula. Per fortuna che Lenzi oggi sul tempo ci racconta guarda che i 12 anni... racconta i 12 anni di galera che non piacciono alla sinistra progressista. Beh, della stampa e di Jacoboni vi ho parlato, però della stampa non vi ho parlato, del bellissimo fondo di Maurizio Molinari, direttore della stampa, che out of the blue, cioè fuori da qualsiasi idea di giornata, oggi racconta una cosa stupenda. La cosa stupenda è il grande scontro sull'intelligenza artificiale che ci sarà tra Cina e Stati Uniti. L'intelligenza artificiale vuol dire tante cose, macchine intelligenti, macchine che imparano, macchine che fanno il nostro mestiere, macchine forse che hanno emozioni. Insomma, l'intelligenza artificiale è la nuova frontiera, è la nuova rivoluzione. Bisogna conoscerla, ovviamente fuori dalle pochezze, per cui il più importante partito italiano tiene Jacoboni fuori dalla sua convention. 1,7 miliardi di euro, il titolo del Sole 24 Ore di oggi, è la riscossione, quindi non le multe fatte, ma nel 2017 hanno riscosso i comuni 1,7 miliardi di euro di multe, crescita del 18%, cioè in realtà le multe sono diventate un grande motivo di cassa per i comuni assetati di quattrini che non vengono più dalla zona, da Roma, dal centro, e quindi cosa fanno? Staccano multe a tutti, ma sono stati anche molto più bravi a riscuoterle, un tempo non erano bravi a riscuoterle, adesso sanno riscuotere le multe, tant'è che sono in crescita del 18%. Che altro c'è di giornata? Direi poco o niente. Francesca, su cosa pensi su questo tema? Non so di che cosa parli. Ci parli di Del Debbio? Di che cosa vi devo dire? Del Debbio, io vado ospite da lui, penso che sia un grande professionista, e non sono convinto che chiudano la trasmissione di Del Debbio perché secondo me è difficile pensare che possa finire una trasmissione come quella di Del Debbio a fine aprile. Vedremo cosa succederà. Quello che so, ve lo dico molto esplicitamente, anch'io che conduco Matrix e che avevo due volte alla settimana come ben sapete la trasmissione Matrix, adesso ce l'avrò una volta alla settimana. Cioè tra un po' ci saranno i mondiali, un grande sforzo economico e finanziario per Mediaset, non sono così contento di ridurre da due a uno le mie puntate, ma quando un'azienda quei soldi li utilizza per altre cose è scelta aziendale. Non voglio fare il pierino, ogni azienda scelte a modo suo, noi professionisti poi sceglieremo a modo nostro se non ci piace. Che altro dite? Ma questa pagliacciata 5 Stelle PD? Mi dice Carmelo, non so se è una pagliacciata, ma il PD oggi, i giornali dicono che traballa perché qualcuno che vuole andare al governo c'è sempre. Bene, dice per i comunisti, se arrestano un comunista corrotto si incazzano perché pensano che loro sono ai me, vabbè, insomma, le questioni su Lula le leggete più avanti. Vi do un abbraccio a tutti quanti, vi dico di condividere questo video soprattutto per un aspetto, perché l'aspetto che a me sta più a cuore è il fatto che non si possa pensare soltanto negli inutili convegni, negli inutili premi giornalistici alla libertà di stampa. La libertà di stampa si conquista ogni giorno, la libertà di stampa vuol dire che il tuo nemico, se è aperto a tutti una convention, può partecipare a quella convention. Mi sembra così banale e mi sembra così banale che oggi i giornali la trattino come una piccola colonnina, come fa Marco Imarisio, con un divido al 100% quello che scrive sul Corriere della Sera, non scandalizzandosi del fatto che i vincitori si comportino da dittatorelli di serie B. Condividete se vi piace questa zuppa, sito nicolaporro.it totalmente rinnovato. Una buona domenica a tutti voi, ci vediamo domani. Ciao!